Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Allora ragazzi, in questo video vi mostro finalmente l'angolo, l'eco e cose varie finito. E si ragazzi, avevo proprio tanta voglia di mostrare questo che vi ho finito. Oggi tratteremo solo il caldax, come è stato il mio DA. Scusate. Poi farò anche un tutorial aggiornato in cui prenderò anche tutta l'intera stanza, come vedete ci avete fatto molti progressi. Partiamo subito ragazzi. Allora, questo braccio, il caldax è un brazo nero e il gestore di noi sono questi qua, i cassetti e quello, bacheca, immobile bacheca. Per sopra c'ho due panni dell'IKEA, non ne vedete come si chiamano, però sono davvero carissimi, lo stavano un euro e io li uso perché non mi piace che immobile prendiamo polvere. Poi il test scritto della Disney con il poster di Peter Pan, che è il mio corto di aperitore piccolo. Poi il temperamento di pan, da qualsiasi non avrebbe i miei ventini di Tiger. Poi questa bellissima lampada, un po' il silio antico, che adoro. Si chiama Tarnabai ed è veramente fantastica, specialmente la adoro perché richiama un po' le antiche lampade ogni volta, infatti lo guardo appunto per questo, perché si accende questo effetto. Poi le mie due, anche sempre piccole. La lampada cubale è una collezione di cavallamenti di Tiger. Questo bellissimo canale, si ha della linea Drogen Monster dell'IKEA, nel casettino un po' le cose varie, passare dell'IKEA più attivo sit, poi qua c'ho una gommina al cobaleno, bocce table di Tiger nel tubo, marker di Tiger, penale di Teddy e marker presi da Raimondo, che è un grosso mangiare di Torino. Poi qua, qua c'è una collezione di immaginamento di Tiger, posti della Coppa, altri posti della Coppa, un'altra marca, posti di Ema e il mio abbo il journal di Tiger. Il bellissimo gattino della collezione di album 2020 di Tiger, con un'altra recita di album come su Amazon. Questi bellissime bacche che ho preso se state costruite in Sardegna. Di dove ci siamo i progetti dell'IKEA, della linea Drogener, che ho dovuto un po' tagliare perché non ci stavano, perché arrivavano l'auto che alla mezza non ci stavano. Dove c'ho tutti i mescherappi usati ancora da fare e varie caratteri, per esempio, di tutti i vostri, di Teddy, di IKEA e di Tiger. Poi qua c'ho la prima drona, prima di organizzare la drona, varie cose, ma chiudiamolo all'istante perché è un riferio. Adesso passiamo in cassetti, ragazzi. Nel primo cassetto sono sempre dei miei cassetti, li ho presi coloro legno. Ragazzi questo qua è il mio cassetto preferito, che contiene tutti, buona parte, della mia posizione di post-it, più i planner. Questo qua è di Vialdi, che sono i nostri keynotes, poi qua sotto dei planner di Tiger. qua ho questi bellissimi con le salle dell'IKEA che avete visto che li ho comprati insieme, che li abbiamo comprati insieme, con dai post-it di Teddy, l'Amazon e le prese di caratteria e lì altri post-it vari. più quelle presi nel suo mercato a progetto oscuro e poi di Tiger a libricino. E qua ragazzi ho tantissimi cassetti, cioè, tantissimi astucci, pieni insieme di concelleria. Sono tutti di Tiger. Allora, il secondo drone lo salto, perché è un mobili magazzino, è un mobili magazzino considerato la mia roba di Natale. Invece, nel Kallax con anta a bacheca, ho tre mie carte prese da Aldi, le carte decorative estive, invernali, eccetera. le carte di Tiger, altre sticky notes prese da Carpool, una stuccia che ho preso alla Copco Corbettus School l'anno scorso. sticky note di Tiger della collezione del 2019. Questo bellissimo canale che mi ha fatto io due anni fa per conto dei post-it. Buona parte dei miei post-it perché mi hanno dato tantissimi. poi, vedete, ce ne sono tantissimi. questo qua è il Veltrinelli, questo qua è il Tiger, Accessorize, Besong Mond, e MyMatch, un negozio che c'è in Francia, Mr.Wonderpool, Amazon e Besong Mond. Bene ragazzi, che dirvi, questo qua è il mio mobile Kallax, veramente, ne vado veramente molto molto fiero, e mi piace veramente tantissimo che mi è uscito, veramente, lo volevo ne vado un bel po', poi veramente, i Kallax sono veramente uno dei miei mobile preferiti. Sono i miei mobile preferiti dell'ikia, veramente, oltre ai Billy. Adesso, c'ho sia il Billy che il Kallax. E per questo ragazzi, rivederai anche il tour del Billy, perché sono molto felice di mostrare via anche il Billy. Comunque, fate sapere nei commenti cosa ne pensate del mio Kallax rinnovato. Ragazzi, secondo me, il mio sito preferito è questo. Una mia parte preferita del Kallax, secondo me è questa. Facciamo sapere voi nei commenti la parte che vi piace di più, devo dire che a me piace moltissimo quello che è venuto. Presto ragazzi vedete la room tour, e presto ragazzi quale mese scompare l'anno, e al loro posto ci mettono due Kallax da parete. Come questo, però, diverso colore legno. Di questo colore qua. E poi vi farò il video quando andrò a quest'anno di l'ikia e altrimenti quest'anno al prossimo mese. E niente ragazzi, che dirvi, questo qua era il video, spero che il mio Kallax vi sia piaciuto. Potremmo sapere nei commenti se avete un Kallax, come l'avete organizzato, tutto quanto i commenti, se vi piace come l'organizzazione, e soprattutto qual è la vostra parte preferita, il mio cassetto, il primo cassetto. E ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale, e noi ci becchiamo anche nel prossimo video. Bella raga! Bello di noi